Grazie a tutti. Allora oggi parliamo di un importante progetto nati per leggere che da un bel po' di anni e dalle nostre parti, un progetto nazionale che è arrivato anche a Foggia chiaramente e che dottoressa Volpicelli quest'anno fa una bella parte in provincia di Foggia. Diciamo innanzitutto di cosa si tratta. È un progetto per la lettura ad alta voce ai bambini in età prescolare, più precisamente dai 6 mesi fino ai 5 anni. È un progetto che vede coinvolti fianco a fianco i bibliotecari e i pediatri di famiglia che in Italia dal 1999 ma anche in questa nostra realtà ormai è presente da 8 anni. È un progetto importante perché parliamo di dati, in Italia si legge sempre meno, il 37% della popolazione negli ultimi 12 mesi non ha letto un libro. Quindi partiamo da questo dato per capire cosa potranno leggere poi i figli perché si legge già a partire da 6 mesi, è vero? Sì, diciamo che si crea l'abitudine. Naturalmente un bambino di 6 mesi non può leggere i promessi sposi, però prima di tutto è importante il contatto che il bambino ha con il genitore che gli legge la storia. Se voi guardate il logo di Nati per leggere, c'è una mamma che accoglie il bambino, ha il bambino in braccio e insieme al bambino legge il libro. Diciamo che il primo messaggio che arriva al bambino è questo coinvolgimento della mamma, cioè la mamma lo accoglie, lo abbraccia, i loro sguardi guardano la stessa cosa, cioè si concentrano sul libro. Quindi è anche importante dal punto di vista del rapporto mamma figlio. dell'attaccamento sicuramente, è importante per il bambino ma è importante anche per la mamma, poiché noi già da qualche anno facciamo questo discorso con i genitori, capita che le mamme ci dicano, dottoressa è bello per lui ma è ancora più bello per me, perché è un momento nostro di contatto, di rapporto, senza altro. Allora, perché andare in biblioteca, alla biblioteca dei ragazzi, sapete che la magna capitana compie 180 anni, non li dimostra diciamo, perché si li porta abbastanza bene, e c'è, troverete i bibliotecari di fiducia, quelli dell'Università di Foggia, che potranno orientarvi, giusto dottoressa, tra i libri, anche per i più piccoli. Sì, questo diciamo che il progetto che affiancano i pediatri è portato avanti dalla biblioteca dei ragazzi, la cui responsabile è la dottoressa Milena Tancredi. C'è addirittura un piano di questa biblioteca dei ragazzi, completamente dedicato alle letture per i bambini dai sei mesi ai cinque anni. Ed è, c'è sicuramente il personale che sarà in grado di consigliare i genitori, perché è evidente che un bambino di sei mesi ha diritto ad un libro di gomma, perché se lo mangia, cioè non lo legge, lo mangia, lo inizia a toccare. Il primo approccio che ha con il libro passa attraverso la mano, passa attraverso la bocca, quindi andiamo dai primi libri, diciamo, di gomma, di plastica, fino ai libri poi, man mano, quelli con le figure un po' più grandi, con le figure grandi per i bambini di uno o due anni, poi cominciano a comparire le prime scritte. Cioè, diciamo che il libro segue l'evoluzione cognitiva del bambino, la segue e la precede. Accade anche questo, che molti bambini vengono un po' catturati dalla tecnologia, dagli smartphone del papà o della mamma, dal computer e spesso si abbandona il libro, anche quello con le figure, quello colorato, che potrebbe invece essere uno spunto necessario per un bambino. Sì, allora, il fatto affettivo assolutamente non è paragonabile, perché non so che affetto ti può dare il televisore o lo smartphone rispetto all'abbraccio della mamma con cui leggi, ma abbandonando anche questo discorso così emozionale, anche da un punto di vista cognitivo, l'efficacia non è la stessa. C'è stato uno studio molto importante, che è stato fatto nel 2010, su 88 bambini, che sono stati divisi in due cohorti. A metà dei bambini veniva proposto un DVD, adatto naturalmente alla loro età, in cui le cose venivano dette in maniera molto comprensibile, del tipo Baby Einstein, insomma, dava delle informazioni, leggeva anche il lettore e il bambino guardava le figure con il DVD. L'altra metà, invece, ascoltava le stesse cose lette da un adulto, che naturalmente interagiva con il bambino, perché quello che è importante è una lettura dialogica, cioè non solo… Intelligente, quindi. Ma soprattutto dialogica, cioè il bambino deve venire coinvolto, tu mamma che legge a un certo punto devi dire allora che cos'è questo, è l'orsetto e che cosa dice l'orsetto, cioè tu leggi, però poi aspetti feedback dal bambino, lo coinvolgi, capito? Insomma, alla fine di questo studio, i bambini che avevano, che erano stati in compagnia del DVD, avevano delle performance assolutamente inferiori a quelli che avevano, invece, ascoltato il racconto dalla mamma. Allora, diamo, visto che lei ha dato già dei consigli alle mamme, diamo qualche altro consiglio. A mamma e anche ai papà, perché noi parliamo della mamma, nella figura c'è la mamma, ma naturalmente… Vogliamo mettere anche gli zii, perché poi la famiglia… Anche gli zii, ma il papà è importante, ormai voglio dire c'è questo interscambio dei ruoli. Diamo qualche consiglio più specifico, cioè la lettura già dalla tenera età, dai primi mesi, è importante per creare, abbiamo detto, un rapporto ancora più saldo tra mamma o papà e figlio, ma per far sviluppare anche i sensi al bambino, l'intelligenza… Certo, il linguaggio, prima di tutto, e poi anche, certo, anche l'intelligenza, perché diciamo che da che cosa dipende la maggiore o minore, diciamo, versatilità del bambino? Dal numero di sinapsi, cioè di connessioni che si creano nel suo cervello tra i vari neuroni. Queste connessioni si creano nei primissimi anni di vita, cioè all'inizio proprio della vita, che il cervello del bambino si dice è plastico, può essere plasmato, più input dai, più connessioni si creano, più il cervello si arricchida. Fino a che età, quindi? Diciamo che dopo i cinque anni i giochi sono fatti, fino a cinque anni. Ma si può creare quindi il cervello, diciamo, si può plasmare fino ai cinque anni? Sì, fino a cinque anni. Fino a cinque anni, diciamo, è il periodo di maggiore plasticità. Se un bambino subisce un trauma all'emisfero sinistro, che è quello responsabile del linguaggio, se questo avviene nelle primissime epoche della vita, nei primi mesi, il bambino da grande sarà in grado perfettamente di vicariare tutte le funzioni. Man mano che si va avanti con l'età, già se questo trauma avviene dopo i cinque anni, il bambino recupera, ma avrà sempre un handicap rispetto ai coetanei. Se peggio questo avviene durante l'adolescenza o l'età adulta, è evidente che, diciamo, le connessioni non si creano più. Quindi è quando sono molto piccoli che noi, che l'ambiente li deve stimolare. E quindi stimolare significa far leggere, accompagnare, come diceva la dottoressa Volpicelli, nella lettura il bambino. Io vorrei far vedere a chi è a casa, abbiamo già visto il logo con il computer, ma guardiamolo anche in cartaceo, perché è molto bello. Nati per leggere, quindi questo importante momento di confronto, di lettura, che avviene tra i genitori e i propri figli, accompagnati dagli specialisti, dai pediatri, e anche dai bibliotecari. In questa fase i bibliotecari hanno un ruolo fondamentale. È fondamentale, senz'altro, perché lui il riferimento, cioè i bambini nei nostri studi hanno un primo approccio, perché noi diciamo che siamo un po' un interlocutore privilegiato per le famiglie, siamo la prima figura con cui loro vengono a contatto, dovrebbe essere una figura autorevole comunque, e comunque loro a noi chiedono molti consigli non solo sulla salute, ma anche in generale sullo sviluppo del bambino. Quindi noi diamo l'input, però la casa che li accoglierà deve essere la biblioteca. Quindi questo è un bel consiglio. Entriamo nel dettaglio del progetto. Foggia cosa offre? Ci sono quasi 1600 nati ogni anno dalle nostre parti. Sì, finalmente quest'anno riusciremo a consegnare a tutti i nati un kit, diciamo che questi kit saranno recapitati dalla biblioteca nei nostri ambulatori. Noi facciamo periodicamente dei bilanci di salute, al primo, al terzo, al sesto mese, a un anno. Quando il bambino viene da noi per il bilancio di salute del sesto mese, noi gli consegneremo questo kit che comprende un libro adatto ad un bambino di sei mesi e una brochure con l'indicazione di tutti i libri più adatti a tutte le età che la mamma potrà trovare alla biblioteca dei ragazzi. Quindi diciamo alle mamme che non bisogna andare lontano, chissà dove, in quali negozi. Basta andare in biblioteca. La novità quest'anno è che nei nostri ambulatori ci saranno per la prima volta i lettori volontari. Praticamente sono dei lettori che si sono formati attraverso dei corsi tenuti in biblioteca e che verranno nei nostri ambulatori dove noi creeremo un angolino ad hoc, le sedioline, non so, il cesto con i libri, il manifesto di Nati per leggere. E periodicamente questi lettori verranno nei nostri ambulatori, non solo per intrattenere i bambini, che questo già ci fanno un grande favore. Immagino. Ma diciamo hanno anche due funzioni importanti. La prima è quella che rafforzano il messaggio che noi diamo che la lettura è importante. La seconda è che insegnano alle mamme, ai papà, come leggere, cioè come approcciarsi al bambino nella lettura. Io voglio leggere una strofa di una poesia di Brugno Tognolini che le mamme conoscono perché è un autore per ragazzi. Dice La biblioteca capitana dei bambini è una tana di domande e di destini, è una fontana di leggende e di passioni, è una collana che lega le stagioni. Insomma ci ritroviamo per la fine. È così, è così. Questo è il ruolo della biblioteca, insomma una parte nuova della biblioteca perché chi la frequenta per studi universitari o scientifici magari passa davanti alla biblioteca dei ragazzi e non sa che ricchezza ha. Certo. La magna capitana, la nostra biblioteca che quest'anno, lo voglio ricordare di nuovo, ha compiuto 180 anni e che ha allestito un ricco cartellone di appuntamenti per celebrare degnamente questo anniversario, questo compleanno. Per i papà invece che consigli lei dà? Perché di solito le mamme sono o più predisposte per natura, insomma a accompagnare i figli nella lettura. Allora, questo non è vero. Io devo dire che in questi anni di esperienza ho visto che anzi molti papà che per lavoro, per impegni, magari tutta la giornata sono fuori, vogliono appropriarsi di uno spazio da dedicare in maniera esclusiva ai loro bambini. Quindi questo rito, che dovrebbe diventare un rito proprio della lettura, magari la sera, prima di andare a letto, è una cosa che loro fanno volentieri e che naturalmente li arricchisce molto. Visto che abbiamo parlato di lettura in calo, abbiamo detto che il 37% degli italiani non legge libri negli ultimi tempi. Negli ultimi 12 mesi non ha letto neanche niente. Quindi questo è grave. La colpa è innanzitutto della tecnologia, perché si legge sempre più sul telefonino, sullo smartphone, sul tablet. Vediamo cosa dice il foglio.it. Amazon, che è il sito di vendite, schianta il mercato dell'editoria, ma si perde di fronte al romanticismo del libro. E questo può essere un titolo che dà qualche speranza. Cioè, alla fine, il libro, anche se ormai ci sono i libri digitali, che a me non piacciono, sinceramente, perché si perde il contatto con la carta. Ma, guarda, questo è vero. Però magari leggessero i libri digitali. Almeno quello, dice lei. Certo, il fascino della carta, specialmente per le persone, vale per le persone della mia generazione. Diciamo, i nostri bambini probabilmente leggeranno tutti sull'ebook. I libri digitali. Ma l'importante è che leggano comunque. Qualcuno, qualche mamma, io sento, ha paura perché con questi libri digitali qualcuno dice il mio bambino perde i gradi alla vista, insomma, come accadeva tempo fa. I telefonini rovinano la vista. Ormai, diciamo, l'ebook è fatto in maniera tale da non affaticare neanche la vista. Io direi che rovinano il cervello i telefonini. Certo. Non l'ha vista. Certo, questo è importante, questo è importante. Magari a un figlio darlo a un'età quasi adolescenziale, possiamo dire. Almeno arriviamo alle scuole medie. Quindi si scrive anche sempre meno, perché se si legge pochissimo ormai la scrittura... Si scrive, cioè si scrive, lei dice, libri? No, si scrivono. No, io parlo di ragazzi. No, i ragazzi... Ormai non scrivono più. E scrivono che, col k, ormai anche nei chemi scuola. Neanche le belle lettere d'amore. O no, ho sbaglio. No, lettere d'amore. Al massimo ti puoi accontentare di un messaggino. 160 caratteri per finire un amore o per chiedere di iniziare un amore possono bastare. Allora, l'appuntamento è da non perdere. La biblioteca dei ragazzi, voglio ricordarlo di nuovo, offre questa bella possibilità. Nati per leggere, due gli attori protagonisti, i pediatri e i bibliotecari. È una iniziativa lodevole che è arrivata anche a Foggia da ormai da tempo, che la troverete in tutta Italia. Non dovete andare quindi lontano. Basta parcheggiare vicino alla biblioteca, portare il proprio figlio lì, ascoltare la lettura, come dicevamo. C'era questa lettura intelligente. Ma anche scegliere. Cioè, è uno spazio bellissimo, tutto colorato. Io vi consiglio davvero di andarlo a vedere. Visto che, dalle nostre parti, vogliamo dire anche che il parco giochi, dove spesso portiamo i bambini, è distrutto. No, guardi, la biblioteca dei ragazzi è una realtà bellissima, che purtroppo la nostra città conosce poco. Eh, appunto. Conosce poco. Ma perché non ci possiamo credere. Allora, quando l'andiamo a vedere, non ci possiamo credere che sia uno spazio così bello e che fino a quel momento non avevamo conosciuto. Spero che abbia fatto scattare un po' di curiosità nelle mamme che ci stanno seguendo, perché, dicevo, invece di andare sempre al parco, dove troviamo bottiglie sparse qua e là, sporcizia, rifiuti, andiamo ogni tanto in biblioteca. E senz'altro i bambini si divertiranno, questo è sicuro. Parola di uno specialista. Grazie a Giussi Volpicelli, che è venuta a trovarci, e in bocca al lupo per questa bella attività. Grazie. Grazie a voi. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci. Grazie a tutti.